Il classico testa-coda al Guido Biondi, ma al di là della classifica il derby tra Lanciano e Chieti è più complicato del previsto per i nero-verdi che scendono in campo secondo i canoni del 3-5-2 con Rodia e Fabrizzi in avanti assenti. Berna e Galli recuperano ma solo per la panchina Pietrantonio, De Fabritis e Spadafora. E Rodia, il più attivo del Chieti, sono suoi gli spunti più importanti in apertura ma regge il Lanciano che ripropone Augusto Marfisi, uno degli ex. Su Ruggiu, riferimento offensivo di Benedetto e Lombardi a supporto, il calcio di rigore assegnato al Chieti per questo intervento ai danni di Luca Fabrizzi tra le proteste dei calciatori frentani irremovibile. Però Sciubba di Pescara si accendono gli animi, placati, a fatica dall'arbitro si presenta. Dagli 11 metri lo specialista Marco Mariani, meglio di lui Vittorio Rossetti che ipnotizza l'ex Montegiorgio e si oppone alla grande, quindi regge lo 0-0. Ma Chieti che ci prova ancora vuole il vantaggio prima dell'intervallo, fermato però dal fuorigioco e da un Lanciano che prova con coraggio a rispondere ma deve difendersi sulla combinazione che coinvolge Rodia e Farindolini, il tocco dentro non arriva nessuno sul pallone, quindi si mette in proprio Nicolò Corticchia, esplode il destro che si perde sul fondo, ottimo il tentativo del centrocampista nero-verde sul versante opposto. Chance per Fabio Fuschi che recupera e poi si propone in attacco ma fallisce da buona posizione e un Lanciano volitivo Francesco Siragusa, ancora una buonissima prestazione per lui ma non riesce a sbloccarla in chiusura di primo tempo Lombardi. Per il Lanciano pericolo per la squadra di Lucarelli che non riesce ancora a sbloccarla e nella ripresa rischia addirittura di andare sotto con il capitano Frentano Augusto Marfisi a centimetri dal bersaglio Lanciano che riparte bene ma Chieti che mette la freccia sul pasticcio di Vittorio Rossetti che regala il pallone a Lorenzo Farindolini il quale non può che depositare in rete. Per il vantaggio nero-verde Farindolini è l'undicesimo marcatore stagionale del Chieti sul cadeau del portiere rosso-nero. A questo punto il Chieti prova subito a raddoppiare incontenibile Francesco Siragusa, l'azione personale è 2-0 solo rimandato. Si riscatta Rossetti qui, il portiere ex Amiternina quindi Lanciano ridotto in 10 uomini per questa espulsione rimediata dall'argentino Lombardi per somma di ammunizioni. Anche qui piovono proteste vehementi ma Sciubba costringe il Lanciano all'inferiorità numerica e a questo punto il Chieti può si raddoppiare. Fermato secondo il direttore di gara, irregolarmente Luca Rino all'interno dell'area aveva sostituito, liberato Filosa, altro rigore accordato tra le proteste generali questa volta. Però dal dischetto non va Mariani, bensì Manuel Spadafora non può nulla. Vittorio Rossetti il terzo gol stagionale per l'ex attaccante dei Nerostellati è partita in ghiaccio. Quindi si accendono ancora più gli animi, rosso diretto per questo intervento su consorte da parte di Paravati, entrato nel corso del secondo tempo il Lanciano che deve chiudere in 9 uomini. C'è spazio solo per questa conclusione di Spadafora prima del triplice fischio, può bastare così il Vincel Chieti recrimina, il Lanciano resta in testa. La squadra di Lucarelli che è lo stadio Guido Biondi si impone 2-0.